Il mio personaggio si aspetterà, e qui lo spoilerò davanti a tutti, è tornato, Vittorio Conti ritornerà ad essere un pubblicitario brillante all'interno di quello che sarà comunque il suo paradiso e quindi farà un po' l'imprenditore, un po' pubblicitario, poi ci sarà una nuova entrata, un nuovo socio, così appunto Vittorio riuscirà a fare quel lavoro che lui ha sempre fatto. Farà in modo, cercherà di reinserire quelli che erano i caroselli, quindi per pubblicizzare i suoi abiti, insomma ci sono tante cose da raccontare e ancora siamo neanche a metà, quindi ancora è lunga la strada. Iniziamo proprio con l'organizzazione del matrimonio di Marta e Vittorio, e quindi ci sarà quello, ci saranno anche entrate di personaggi storici che hanno fatto la storia negli anni Sessanta e giriamo un po' tutto intorno a quello che era negli anni Sessanta, ne siamo molto contenti di questo. Mi piace l'evoluzione che avrà, sono molto contento che sia tornato ad essere quella rivista, un uomo all'avanguardia rispetto al tempo, al boom economico e che abbia oltre all'amore anche l'unico e vero amore della sua vita che è appunto il fare il pubblicitario. Vai più piano. Quando hanno deciso di chiudere la serie, certo mi è dispiaciuto perché comunque i risultati erano abbastanza buoni. Noi avevamo fatto un grande lavoro e quindi ho detto, vabbè, cioè voglio dire, alla fine era un peccato chiuderlo. Insomma mi sono messo un po' il cuore in pace, alla fine insomma quando uno fa un film e poi finisce, poi se ne fa un altro, insomma morto un papa, come si dice, morto un papa se ne fanno due adesso si dice, perché e quindi insomma eravamo ormai abituati alla notizia. Poi quando invece sono tornati indietro sui passi o perché hanno capito che il pubblico piaceva o lo share che era comunque abbastanza alto, siamo rimasti veramente contenti, ci siamo tutti riorganizzati subito e siamo partiti praticamente dopo due o tre mesi dalla notizia. Siamo molto contenti. Lunga vita al paradiso.